Grazie a tutti Tutti sanno che la pizza e il pane migliori si cuociono nel pietra E ora i ristoranti più costosi cucinano sulle piastre in pietra per esaltare il sapore del pietra Ma queste piastre sono una vera seccatura Bisogna riscaldare il rischio di bruciarsi Aspettare che darle nel forno e poi estrarle raggiungano la giusta temperatura Arriva la rivoluzione in cucina che unisce il vero gusto della cottura tradizionale su pietra alla pietra Tantissima qualità che si trovano sul mercato Vi presentiamo Il design innovativo Combina il veloce riscaldamento dell'alluminio con la superficie solida della pietra Che immagazzina il calore e gradualmente lo rilascia nel cibo Permettra riscaldare a temperature più metase Il cibo si cuoce in modo uniti e grassi La nostra amica John Parkin e il nostro inglese preferito Lori Lila Vi presenteranno la più sorprendente delle innovazioni in cucina Come ha detto scusi? Terranno la più sorprendente delle innovazioni in cucina Come ha detto scusi? Terranno la più sorprendente delle innovazioni in cucina Come ha detto scusi? Soca! Come ha detto scusi? Soca! John! John! Oh mio Dio hai cucinato tutto questo cibo Proprio così Proprio così Proprio così Proprio così E sono tutti i tuoi piatti preferiti E proprio così Abbiamo del pollo al curry Pagna, un omelette dalla seda dall'India Francia d'omblè Degli hamburger americani E molto, 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 molto Molto altro ancora Per questo ti sono servite tutte queste padelle No, no, no Per questo ti sono servite tutte queste padelle no 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 preparato tutto con una sola padella cosa? preparato tutto con una sola padella come è possibile? vedi, la tecnologia di stonewell possiede la durata del accio inossidabile l'antiadenza e la grande conducibilità dell'alluminio Ok, ok. L'angualmente anche la ritenzione del calore del calore del ferrofoso. Wow, ecco come mi sento in cucina con tutte queste padelle. E la cosa fantastica è che vi darò il locale dell'Ibis da mio sugo e raro fa sempre una cottura tradizionale su pietra direttamente su pietra a casa e di cucinare piatti più deliziosi che mai. Guardate, perché non cucinare carne e pesce insieme? Ecco una bella bistecca. Ok. Mettiamola in padella e aggiungiamo anche dei gamberi reali. Vedete, per esaltare al massimo il sapore di questi cibi quello che vi serve è la padella Stonewell. La superficie dura della pietra naturale è fatta di piccole particelle di pietra su una base di alluminio. È incredibile, Stonewell è stata ideata proprio per esaltare il sapore del vostro cibo. Fantastico. Ah, non vedo l'ora di assaggiare. Lori, posso anche prendere delle pietre appuntite come queste e farle saltare in padella. Più e più volte. 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 La cosa incredibile è che la superficie non si rovina. Dà un'occhiata a tu stessa. Oh mio Dio, John, hai ragione. Non potremmo mai farlo con una padella norma. Si rovinerebbe. Si rovinerebbe. Si rovinerebbe. Si rovinerebbe. Vedete? Stonewell è dieci volte più resistente e dura dieci volte più a lungo di molte padelle antiaderenti che si trovano oggi sul meraviglio. Sono pronta. Assaggia questo. Sembra deliziosa. Mmm. Oh mio Dio, è perfetta. È tenera e succosa. Mmm. Deliziosa. Si scioglie in bocca. Ed è stata cucinata in padella. Sembra cotta sulla griglia. Ora mettiamo la carne e il pesce che abbiamo cucinato in un piatto. Ti mostro com'è facile pulire questa padella. Prendo un tovagliolo di carta e lo passo velocemente sulla superficie della padella. Insomma, come vedi, pulirla è un gioco da ragazzi. È sorprendente. È fantastica e ti fa risparmiare tempo. E poiché niente si attacca su una Stonewell, non vi servono olio extravergine, olio di girasole, tutti quei grassi come strutto, insomma, insomma, niente di tutto questo. Tutti questi ingredienti spazzatura finiscono dritti nella spazzatura. Ecco qua, ecco qua, ecco qua, ecco qua. Anche questo finisce lì dentro. E senza questi ingredienti cucineremo in modo più sano. Quando... Quando... Chiamate ora e avrete la padella antiaderente Stonewell da 24 centimetri. Al prezzo che vedete sullo schermo. Arriva completa del coperchio di vetro Ternal Touch, ma non è finita. Ordinando oggi la Stonewell da 28 centimetri con coperchio, invieremo la padella da 20 centimetri totalmente gratis. Inoltre includeremo l'appilato coltello tecnologico da chef. La sua lama di precisione faria facilmente ogni cibo. Includeremo anche un coltello per sfilettare, uno per spuntare, uno per il pane e il formaggio, un coltello santoku, uno per la carne, uno per frinciare, un forchettone e queste forbici da cucina. Incredibile. Questo set di coltelli tecnologici da 10 pezzi ha un valore di 49 euro. Passarà vostro gratis. Basta pagare a parte le spese di in ballo. Riceverete la padella antiaderente media con coperchio e ordinando oggi anche la padella da 28 centimetri con coperchio, invieremo gratis è quella da 20 centimetri, più set professionale di coltelli da 10 pezzi. E non dimenticate di chiedere all'operatore la griglia di Stonewell per completare il vostro set. Siamo così sicuri della qualità di queste padelle da fornirvi una garanzia illimitata. Se dovessero scheggiarsi vi rimborseremo. Sono garantiti a vita, ma dovete chiamare... E... Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Grazie a tutti.